Tutto a sporttaronto.com, questa mattina con il presidente del CONI Taranto, Michelangelo Giusti. Parliamo di Viva il Cimino 2017, questa manifestazione che ha raccolto tante federazioni e associazioni sportive del territorio. La presenza del CONI a questo evento? Non potevo mancare perché l'iniziativa è lodevole. Attraverso questa iniziativa si fa promozione e lo sport ha bisogno di promozione affinché i giovani, soprattutto, ma non solo i giovani, si avvicinino il più possibile allo sport. Uno sport che fa bene al fisico, ma fa bene anche alla mente. Presidente, lei ha raccolto un'eredità pesante, quella di Graniglia che ha lasciato qualche mese fa. Possiamo fare un bilancio sull'attuale stato delle società sportive del territorio e un focus anche sul problema annoso delle strutture sportive di Taranto e provincia? Lo sport a Taranto, grazie all'impegno di tutte le federazioni e delle relative associazioni affiliate e grazie al sacrificio, all'impegno di dirigenti, tecnici e atleti stesso, sta attraversando un buon periodo. I risultati ci sono e sono anche risultati importanti a livello nazionale e internazionale. Bisognerebbe fare di più e l'impiantistica ha un ruolo importante perché se non ci sono gli impianti non si può fare sport. Come un ruolo importante.